ciao buonasera a tutti ultimamente mi è capitato di avere delle domande da parte di chi ha seguito le mie dirette a proposito dell'attività di un coach intanto c'è da dire che il termine deriva da una parola ungherese che significa carro era un carro particolare e le ruote erano imbottite in modo tale da rendere più gradevole il viaggio del cliente il coach in effetti è la persona che accompagna il cliente verso il suo obiettivo ovviamente il coaching non si può somministrare a tutti ci deve essere un bisogno una richiesta di aiuto una richiesta di coaching e a quel punto il coach interviene sulle convinzioni limitanti sulle potenzialità del cliente e stabilisce insieme a lui degli obiettivi specifici da raggiungere nel tempo questa sera vi leggerò una metafora che si chiama la santità un sant'uomo camminava lungo il fiume pensando alla natura della vera santità era un uomo preciso si atteneva alle leggi sacre riteneva al suo sacro dovere notare le fragilità sue e degli altri studiava e pregava con impegno per diventare quanto più perfetto possibile mentre camminava lungo il fiume recitando le sue preghiere sentì e cheggiare da lontano sull'altra riva del fiume la più santa delle preghiere del suo ordine la preghiera come era previsto veniva ripetuta più e più volte per indurre in chi la recitava una trans devota quella preghiera però disturbava il sant'uomo chiunque la stesse recitando non l'aveva imparata a dovere le sillabe delle prime parole erano nell'ordine sbagliato il sant'uomo sapeva che un requisito fondamentale per ottenere la beatitudine nella vita successiva era tendere alla perfezione della vita presente chiaramente l'errata recitazione dell'importante preghiera rappresentava per il pellegrino al di là del fiume una minaccia al raggiungimento del paradiso l'opportunità di fare una buona azione correggendo quel fedele indusse il sant'uomo ad affittare una barca per attraversare il fiume e cercare l'uomo che straziando quelle sante bellissime parole mentre remava tra le piccole onde affrontando la corrente la sua mente si rivolse ad un curioso fenomeno relativo alla santità a cui non aveva mai avuto l'opportunità di assistere pensò che c'era bisogno di raggiungere elevatissimi livelli di santità per riuscire a camminare sull'acqua forse se fosse stato capace di perfezionarsi ancora un po' conviento atti come quello in cui si stava dedicando in quel momento quindi la necessaria correzione di un maldestro peccatore che non si era invecchiato impegnato abbastanza a imparare per bene le preghiere anche lui un giorno sarebbe stato capace di raggiungere il livello di santità necessario per camminare sull'acqua e un'altra cosa era certamente dovere di tutti gli uomini giusti consigliare e correggere coloro che sbagliano come era loro dovere accettare il consiglio e le regole con umiltà e senza chiedere spiegazioni l'errato esordio della preghiera si affacciò di nuovo alla sua consapevolezza disturbando le riflessioni sulla santità e sulle sue più elevate manifestazioni nessuno proveniva da un'isola in mezzo al fiume si avvicinò a un piccolo molo legò la barca percorse un sentiero e si stupì di trovare all'interno di una piccola grotta un sant'uomo del suo stesso ordine di preghiera fratello disse il rematore sudato mi sono preoccupato di remare fin qui per farti notare che stai recitando nel modo sbagliato le tue preghiere dieci gli e mo e za invece di e mo za ie grazie disse l'elemita mi era venuto il dubbio di star commettendo un errore e ti sono veramente grato per esserti dato tanto da fare potresti ripetermi di nuovo la formula corretta in modo che mi sia più facile seguire la via più illuminata il sant'uomo ripete la versione corretta e tornò alla sua barca mentre remava riflette sulla natura delle buone azioni sul dovere dell'uomo dotato di una morale di restituire l'ordine corretto a un mondo confuso atti di santità come quello erano i segni e i simboli dell'avvicinamento alla vera santità e al paradiso si stupì molto quando venne nuovamente disturbato nelle sue riflessioni da una voce che lo chiamava aspetta un momento per favore disse la voce al di là delle onde guardando il sant'uomo vide l'eremita che camminava veloce sull'acqua verso di lui mi dispiace moltissimo disturbarti ancora ma credo di avere una pessima memoria e non sono un bravo allievo hai detto gli e zammo ie oppure gli e mozza ie gli e mozza ie rispose intontito il sant'uomo grazie mille che la tua buona azione si era compensata come merita e così dicendo l'eremita si portò e tornò indietro camminando leggero sull'acqua buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti